Dopo essersi infiltrati con successo, al gruppo aspetta soltanto una cosa. Salire nella torre finché non raggiungeranno la cima. Da lì in poi la battaglia sarà più dura del previsto. Visto che normalmente trodano la generazione. Sì. Tanto trodano il ghiaccio. Come variano rispetto ai trodano? Vai, tira, riconoscendo. In natura? Eh, cos'è per il tolo? Quanto hai? 15? Ok. Allora, loro sono molto più vulnerabili al fuoco in quanto sono abituati ai climi freddi. Ah, va tranquilla. Quindi tu che vuoi fare? Beh, mi sa che prima di me la tigre, così come se faccio andare. In tutto questo... In realtà, visto che è arrivato semplicemente sparato, ho il troll e si è girato di là. Non voglio ancora balzare, che figa. No, vado prima, sì, vado prima io. Vieni qui. Vabbè. Ok. Da, signor troll. Attacco poderoso. Cazzo matti, bello. Ok, colpisce, 13 danni, ok. La mia potentissima tigre è che la tigre sta qua. E si stava teletrasportando. Quindi è inutilizzabile. Ok, quindi adesso tocca a Ada. Che Ada, scema non è, ha capito che è un troll. Quindi... Ada non ha parlato, ha guardato, ha visto i controlli, ha fatto. La stessa cosa dell'altra volta. Fa la fine delle file di interno. Stavolta però ce la fa. E faccio la... La scala di attacco a brighi, come attacco in carico. Quindi, uno e due. Chiaramente, i danni da fuoco ci sono, eh. Ok. Sì, 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 sì. Sì, sicuramente, è inscritto. Ma come ho detto? Allora, aspetta, più 25, più... Per capire quanti danni gli ho fatto. Più 24, ok. C'ho là la pagina, un minuto di capire. Poi l'altro è più 16. Madonna. E... 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 Più 26. Eeeh, 110 danni. E' la madonna. E' uno e 110 danni. Cioè, più... Più i 13 danni fatti da... I 13 danni fatti da Lily. Quindi, con la scarica, il troll prende fuoco e muore. Si scioglie, letteralmente. Cioè, si è sciolto, vedi? Si è sciolto. Vedi, quindi, tutta la pelle che si è sciolta, si è mezzo cucinata e mezzo sciolta. Nel momento in cui però io ho preso fuoco, poi, ovviamente, ho finito l'attacco e mi spengo, si gira verso di noi l'elementale dell'acqua. Che si è sentito un po' preso per il culo all'inizio. No, 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 no. Non si preoccupi, signor. Non è come sembra. Possiamo spiegare. Ha testato il nuovo barbecue. E' corso di... E' corso di corsa, madonna. Va bene, comunque. C'è il mio italiano. E' la madonna. Che è? Scusi, mi scusi, signori. Ok. Come si permette? Il beach slap dove sta in questo momento. Ok, allora, l'elementale. Quindi, gira. Vai qua. Ok. E va a fare lo schianto su Ada. Quindi, chiaramente, ti causa attacco di opportunità. A te, intanto, attacca. Oh, che bello. Mi piace la parola di opportunità. E probabilmente, nel metterlo, vi sentiamo un odore di carne cotta. E' un 15 e un 17. C'è, temi uno spazio chiuso. Eh, vabbè, ma noi, nel frattempo, possiamo... Noi stiamo giocando a brisco. Noi stiamo giocando a brisco. Sono passati solo sei secondi da quello che è successo. Per poi, loro si stanno ancora te le trasportando. Noi stiamo giocando in brisco. Io, il nano e il gnom. Il polletto. Il polletto nella mano con le carte. Io con la destra e il sordo le carte. Poi compare la tigre e finisce anche te la partita. Basta. Tu non ha visto il bardo andare di qua. Ovvio. Il verde per di qua è andato, mi ricordo. Se il rumore non mi inganna. Sì. E poi se ne ha corso biancata in garazza se ne scappa. No, vabbè. Voi sapete che lui è arrivato qua. Non sapete poi dove effettivamente siamo. Cioè, Tu non sa che è arrivato qua. Cioè, effettivamente, proprio per logica, forse te l'avresti notato di mezzo millimetro. Dopo quella poteva nell'occhio. No, non l'abbiamo notato perché è andato dalla parte opposta. Noi eravamo da una parte, che c'è un cristallo. E lui è andato dall'altra parte, c'è un altro cristallo. Ah, ok. E se ne è scappato senza farsi vedere. Benmicchia. Mi ho dato un danno in faccia, come cazzo fa ad essere ancora sano? Ma perché è ancora una mamma donna? Se ho trovato proprio... Beh, allora, diciamo fa lo schianto su Ada. Ma vera, ma l'abbè. E' semplicemente uno schianto più sette. Wow. Sì. Volevo un'unica schianto. Che, 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 non col... No, aspetta. Si colpisce, ok. Ok, ok, colpisce, colpisce. Fa... Un diotto più quarto. Ok. Che schifo, mi ha bagnata! Mi ha bagnata la pelliccia pulita, adesso puzza di schifo. Sì, 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 sì. Vabbè, io chiaramente mi sono... Ho spento... Ho spento il fuoco. Sì, sì. Mi ha pagato la struttura, ci cadeva addosso. Allora, io provo di nuovo a colpir... Provo a colpirlo. No, aspetta, bugia, lì l'ha fatto. Lui fa il vortice. Ok, sì, mi tocca, Ada. Ok. Ah, da questa volta... Aspetta, devo togliere ancora l'utilizzo. Allora, cancella... E altri cento danni, giuro che... No, no, stavolta vedi una cosa ancora diversa. Che si carica e vedi delle piccole scintilline, piccoli fulmini tra le mani. Guarda, semplicemente, con un colpo... Con un colpo, vado di nuovo con una grafica della teca briga. No, cioè, aspetta, vuoi dirmi davvero che ho fatto critico anche col fuoco? Cioè, in realtà adesso sono fulmini, lo sto fulminando con i cazzotti. Forse ti salvi, chi... No, al fulmine no, al fuoco... E' bagnato, non posso più bagnarmi. Ah, sì, questo sì, è vero. Sono immuni ai critici. Però comunque il danno elementale lo prendono lo stesso. Allora, quindi, subisce... Allora, quindi sono 22 e 5... Allora, 22 e 5 e 27. Poi subisce 19 e 5, sempre... 24. Ok, poi con l'altro colpo che prende 17 e 2, 19. E altri 19. Ok, vedete, vedi che con i fulmini sono... Sta tutto sballonsolante, vedi che non... Sì, cazzotti taser, vedi che sta tutto... Non riesce a mantenere la sua forma, ogni tanto... Da una forma mezzo umanoide diventa tipo un... Una sfera, poi un cilindro, poi un cubo... Continua costantemente a cambiare forma. Ma che carino, sta praticamente a farenda! Ehm... Tocca a te. Beh, è messo male, poverino. Mi dispiace quasi. Insomma, intanto io tolgo anche l'altro... Sì, sì. Beh, sì. Faccio un passettino qua. Ehm... Rendo le mie armi anatema contro gli esterni. Ehm... 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 Ok. Edici e... Vabbè, non so se... Diciamo che devo aver visto 100 danni, 15-12, mi sembrano pochi. Non so. Ma io ho bisogno di buffarmi per far tanto. Sì. Con 16 lo prendo? Sì. No, sono 12... 13, 14... Eh, intanto con quei 12 danni ce la facevi lo stesso, vai tranquillo. Sì. Beh... 28 danni. Vabbè, tanto ce l'avessi fatta comunque. Sì. Vedi che nel momento in cui lo colpisci, diventa semplice acqua e lui è tornato nel piano dell'acqua. Probabilmente a raccontare ad altri elementari del fatto che è stato preso a botte di fulmini. Ehm... Ehm... Una partita a briscola. A briscola. Sì, che stai vinciando. Ah, bene! No, no. Arriva Lini e successivamente Ada. No, raga! Non sapete che è successo! E tipo, ti guardiamo e vediamo la scena. Tutte e tre carte. Il folletto che parla, nemmeno noi! Vabbè. Ah, quello è un folletto. Sì. Ehi, ma è ancora vivo! Come mai è ancora vivo? Sì, perché il suo altro suo amico non è sopravvissuto dallo schiaccio. Mentre lo dice indica un punto e vediamo mentre una piccola chiazzetta di sangue per terra. Mi sembra giusto. Questo qui... Questo qui resta nel suo amico un po' lì. Un po' se n'è andato. Un po' la sotto. Magia, che bello. Allora, adesso avete... Oh! Sarà che sono autopulenti! Comunque adesso avete tante porte. Avete qui. Avete qui. Avete qui. Magia ti può giocare a Magic. In realtà anche una porta qui. E una porta qui. Tante porte, poi la scelta. Qua ci sono tre. Qui. Qui. Questa volete aprire? Qui. Ok. Ok. Apriamola con calma. Non andrete per forza a fare quello che dico io. Eh no. Magari vi sto portando esattamente nelle facce del cattivo. Vabbè. In questo sistema io ho un proiettile. Non andrete. Non andrete. Non andrete. Vi trovate in una stanza dove potete vedere un enorme tappeto per terra, rosso. E all'angolo due statue di ghiaccio che rappresentano due ninfe dell'acqua. con di fronte un altro di quei ghiaccioli per il teletrasporto. aspetta prima di andare controviate le altre poste di individuazione del magico. questo? quello per trasportarsi? questo qui? what a sherlock! oltre a quello, tipo gli stati delle ninque no dica più che devi tenerla, io vado a scuola col ghiaccio di vita, questo freddo tra un po' si, altro che fulme quindi? ah ok allora, allora sono animati magicamente e reagiscono a chiunque non conosca la password del ghiacciolo teletrasportatore no cambia di volta in volta, però ACI ce le ha dette tutte ah ok e se le distruggessimo per il lupo che non hanno stanno la per i cazzi loro, noi sappiamo come poter attraversare tranquillamente rompiamogli il cazzo, tanto! mica stiamo nella fortezza dei nemici infatti mica sono già stati allertati beh mica io c'ho un sugo in una mano non è che sono stati allertati, finora hanno sentito un casino, grida in acqua, ne basta non è che hanno capito chissà che cosa eh le uniche due persone sono scoppiate stranamente si però se ne è andato via uno, no? c'è solamente uno si controlli allora, io intanto controllo le regge ok e qua ok ok prima di lasciare il posto ma perchè sto spostando ogni volta tutto? adesso ci vogliono aiutare ok quella stagione ci segue tiro il nano ok allora quale delle due porte aprite? l'ho detto voi mi dite l'avete prima quella? ok allora quella che vi si ripresenta qui è poco più che una serra vedete dei tavoli tutti coperti di di foglie vegetazioni varie oh cacchio oh cacchio oh cacchio oh cacchio oh cacchio andiamocene via oh cacchio andiamocene via oh cacchio oh cacchio che cosa ti dico? ti accompagno animale 2.0 io posso fare addestrare i mani? no 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 si deve stare in tua autorità per poter fare una cafonata così cazzo se tu hai una botta in testa lo rincoglionisci e gli abbassi se tu hai una botta in testa mi sa che implode prima già ci ho provato col suo amichetto perchè c'ha paura un'idecromassia se lo vuoi sapere cioè o intimidire dipende dalla oh mio intimidire vabbè sono no per culo però ve lo dici prima allora vabbè non è che tanto cambia dici allora ti risponde che in questa serra c'è qualcosa di pericolosissimo in cui la la strega bianca Anna Zena rinchiude i suoi ospiti e fa esperimenti quindi ce ne dobbiamo assolutamente andare in direzione del male non ci diamo contro ogni fase e capire cosa è la cosa pericolosa oh c'è anche in direzione del male è vero vabbè vabbè il problema è che continuo tutti questa cosa mi scusate allora non percepisce il male Ada percepisce il BOTTE diciotto metri dai allora tu non utilizza la percezione del male cioè si si concentra e percepisce da questo punto qui un enorme aura negativa comprese in un minuscolo spazio vitale ok citazioni auliche proprio lancio il colletto hai il 50% di possibilità di fallire perché non riesci a vederlo perfettamente dove è posizionato cioè sai il quadretto ma comunque puoi sbagliare dire di percezione dire di percezione ok solo per dire per turn around tutti i ragazzi tutti i ragazzi tutti i ragazzi in caso di la di percezione tutti 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 ahhh 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 oh maaa chi ti rompasso ma chi ti rompasso scusa ma chi ti rompasso scusa effettivamente ti rompasso guarda lì vabbè tu più o meno sei sei stato un pochino aiutato a fare comunque almeno tu già sai il quadretto tu vedi Lily che si sforza Thorin che fa vedo qualcosina ma non riesco a distinguerle e Ada raga quella pianta si muove nel momento in cui lo dice dalle piante compare all'improvviso una pianta che scatta sul verso Turion e comincia a urlare urlare fortissimo vuoi che si stonna le orecchie si che è una vandracola che è una vandracola che è una vandracola ok mmmm la cacca la fiamma delle piante urlanti quanto hai di cmd? tu Turion chi? si giusto se sta attaccando te non è che interessa quella di Ada a po ma che ne so io aspetta sto controllando l'attività che non la vedo più a poi 19 la vedi arrivare uno ti salta addosso tu e vedi tipo ah che schifo ti è un calcio l'arrivo ho terrato sul tavolo e continui a urlare tirate iniziativa oddio non è che mi capisco un venti ma ogni volta che fa ma porca miseria oh dai forse sono il secondo il terzo che cazzo è successo? perchè mi ha sdoppiato tutto? è successo non è che non è che non lo so io lo so allora Ada ha fatto 18 vabbè sto sgorbio qua quanto ha fatto? no 13 18 mi sa ok Lily ha fatto Torin quanto ha fatto? 6 Ok, Turion ha fatto 10 Ok, Shira, vabbè, sta con Sta con Lily, ok Allora Un attimo, distribuisco l'ordine Allora Ada, vede la pianta? No, raga, la voglio carezzare Prova di lottare Sì, ce l'ho E Ada afferra la piantina Implode su se stessa Prova di lottare Comunque continua ad urlare E approfitto del fatto che è stata afferrata La mandrata Cerca di approfittare Per fare Per farmi un morso Lo, ci riuscirà Scopriamolo Ok E non ce la fa Scusa, ma ho buttato Ah, e lo stringo ancora di più Ehi, che fai, bordi? E continua a stringer E li frigo un di 6 di danni Ok, Lily, cosa fai? Potiamo il bonsai? Muove La stringa attualmente sezione E la tocca pianissimo Attualmente, cioè Da là Immagino che siano in moneda Nella precisione Le mole Sì, buonanotte Buonanotte Tu l'ho ancora conferito in mano Sano Ok 10 danni 10 danni Faccio diventare il folletto sacro Ok Ok Adesso Turion, cosa fai? E' una proposta di provare a rendere il folletto sacro Per vedere che succede Peccato Considera che comunque Adal lo sta tenendo fermo Vabbè Intanto Lily sta facendo la potatura Infatti Vabbè Posso provare a lanciare Pornetto Stai implorando pietà Lascialo stare Ti prego Lui ci abita solo qua dentro C'è un link Mmm 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 Allora ragazzi Se aspettate un attimo Ci faccio il pesto Eh? Il folletto Il folletto implora pietà Turion Ride Per la genovese però mi servo un vino Ride in mazzate Ride in martello lucerna Ride in martello lucerna Ride in martello Dopo che finisce la sessione ti faccio Veramente lo sticker Turion Triggerato Ride in martello lucerna Tipo io lancio il folletto E prendo il martello Tu non hai estrazione rapida Quindi lasciare il folletto In la zone standard Sì Io voglio anche lo sticker però di Ada Piena di problemi Che mi fluo del ventale Vabbè Lascia il folletto E attacco Tanto posso È il turno È il movimento Per estrarre l'arma L'azione standard Per lasciare il folletto No aspetta No hai ragione Scusa Quella azione è gratuita Sì Però comunque Azione di movimento Prendere Prendere l'arma Ok Sì vai Posso Io posso Fino a poco contrario Che fai pure Un poderoso Giusto per essere sicuro Di distruggerlo Considera che è caotico malvagio Non c'è che sogno Fidati comunque Di segreti Sì E' una pianta Non è che devo farci uno spezzagino Dai ragazzi Tenete la viva Che voglio provare A vedere Mi sa che Con il mio colpo Mi sa che non è viva Mi sa che Non è No È una pianta È una pianta Sì ho colpito Eh io pure Io vedo un 3 più 5 Non lo vediamo Scusa è sotto Come non lo vede No Aspetta Mi dispiace Non lo vede Anch'io Ma cos'è quel 3 più 5 Non lo so Nemmeno io Ho sbagliato Dadissimo Attività di gioco Prova a rilanciare Lui ho rilanciato Non si vede Guarda Ok Ok Cosa l'hai colpito Aspetta Ah ok Quindi la stiamo Pestando Con il martello Ok L'ultima che rimane è Thorin Vai Cioè Tu ovviamente la vedi Che come Hai presente Gli spinaci Dopo che li Li stai cuocendo Come si Rinsecchiscono E comunque La stessa scena Vedi Sta pezzo di pianta Qua tutto rinsecchito Peppicchiato Tutto depresso Ok Allora devo Vuol dire che Devo ancora Devo ancora Posso fare di più Dobbiamo ridurla A pesto Quindi Le quelle di Empower E tutto questo Punire il male Contro una Contro una pianta No Hai capito Ah Eh ma io ce l'ho gratis Cioè Non ce l'ho Un punto di burn Che però Mi curo gratuitamente Perché C'ho Il tot L'overflow No Non è l'overflow È la specializzazione Comunque Siamo Con Empower Che faccio Quindi Aumento Cioè Tiro Un altro Di 6 Mi metto Più Ho più 9 danni Un più 4 Come In Il Dipende Con quantità Di tir di blast Di base Ok Ne aggiungi uno Ah Sì Aggiungo Un di 6 Un di 6 Più Metà Ok Un di 6 Più 4 Allora Fai Allora Faccio Arti blast Assessimo Di Fai Damage Un di 6 Più 4 Funzionerà Oppure Mi darà Valori strani Ok Da 27 danni Abbiamo fatto Un pezzo A sapore Di botte Abbiamo fatto Un pezzo A sapore Di botte La piantina È morta Di aver rinforato A noi Un'altra Stanza Ah che bello Oppure possiamo tornare indietro E esplorare l'altra Ho bella scelta Ok se andiamo avanti Ci siamo tratti Tipo una strega Va sicuramente Ditemi voi Nel momento in cui Andate Qui Vedete Lo stesso Lo stesso cristallo Dell'altra volta È Un'altra piccola Porticina Qui Andate Traversiamo Questa porta qua Oddio Ormai Dici No io però Aspetta Allora adesso Voglio vedere Che cosa c'è qui Ma Pronto No ragazzi Indietro L'altra parte Saremo qua Ragazzi Se no Senza fare l'avanti Indietro Tiriamo giù Il muro Ok Minchia Veramente C'è un martello Ragazzi È ghiaccio Non è che vi dico Non fatelo A posto Prova di forza Posso farlo Attualmente Solo quattro volte Al giorno Eh Faccio Prova di forza E basta Chiamo con Ada Allora Cioè devi tirarmi Semplicemente Il danno Quindi tirami Il danno O fare una prova Di spezzare Sì È indifferente Tanto se fai La prova Di spezzare Comunque poi Mi devi dare Un D12 CPC Devi fare il danno Faccio il danno Un D12 12 più 5 Ciao Ok A posto Ok Tu fai 7 danni Ok Fa Vai 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 Fai tu Io posso Posso provare A spezzare Con il blast No Mi serve un talento Ok Fai anche tu la prova No Vabbè tu Sì Tretti anni Ok Due ram No La durezza del materiale Allora guarda La scena fa Scusatemi Il critico Lasciamo stare Il fatto Che iniziamo L'abbiamo fatto Dieci danni E basta E che Ada Con l'attacco Eh col primo pugno Devi dire Facendo uno Ho fatto Poi vedi il destro Che è partito Il primo L'ho rotto Con il secondo Il ghiaccio Si è diventato polvere Con il secondo Ci sono Il nemico Dopo No Il secondo È tipo Il punto di pressione Della scuola Do Kudo Con il punto Si è creatato Tutto il muro